Inizio a visualizzare il mio corpo e a prenderlo in ogni sua parte. Sento il mio corpo e a prenderlo in ogni sua parte. Guarda gli occhi. Com'è andata? Quando avevo il diflusso che erivo su dalla terra, senti proprio come un foglio, bellissimo, dai piedi che salivano su. E' il raffinamento. Quella nostra più grande parte della terra. E' il raffinamento. Grazie. 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 Grazie.